La residenza storica a San Tommaso è un complesso dagli spazi maestosi e spettacolari, incorniciata dalla vista mozzafiato del mare e da un intero bosco attrezzato con deliziosi vialetti per accogliere i visitatori. Dalla sala San Tommaso, arredata in grande stile con elementi originali dell'epoca, alla sala delle zagare e la sala scuderie in tuffo e pietra, perfetta per il cocktail di benvenuto, la struttura vi offrirà lo spazio perfetto a seconda delle esigenze. Esternamente la splendida terrazza panoramica, allestita per ricevere gli invitati, offre un'esclusiva vista mare. Nelle serate estive è teatro di meravigliosi buffet dolci. L'ampio e curatissimo giardino costituisce un ulteriore spazio ideale per accogliere gli invitati nella stagione calda. Il servizio di accoglienza sarà curato fin nei minimi dettagli da uno staff di professionisti altamente qualificati, che non faranno mancare nessun dettaglio alla riuscita del vostro ricevimento. Delle lussuose e confortevoli suite verranno messe a disposizione per accogliere voi e i vostri ospiti. La cucina curata fin dai minimi dettagli dagli chef della Residenza San Tommaso unisce la ricerca d'autore e la fantasia alle prelibatezze della ricca tradizione culinaria locale.